Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video qui sul mio canale Questa oggi siamo qui in compagnia di Giuseppe e Tonno Non dite nulla perchè Tonno sta facendo 9 kill solo di squad Va bene Io ne avevo fatte 4 Peppa è 0 perchè purtroppo è morto all'inizio Cioè non lo so Veramente Tonno è troppo pronto Siamo già a 13 kill 13 kill da quello questo No il mio cane dai Il mio fucking cane Il mio fucking cane Madonna Wow Vabbè bella